Il comando ha cosparso l'asfalto di Chiori e bloccato l'autostrada con almeno un paio di auto incendiate. Gli agenti di polizia stanno effettuando controlli in diverse zone della provincia di Foggia, ma anche nell'Abbatte e nel nord barese più in generale. Gli inquirenti stanno anche cercando di capire se il comando si è riuscito o meno a portare via del denaro. Pare infatti che quando i banditi hanno iniziato a tagliare le lamiere del mezzo con il flessibile si sia azionato il cosiddetto spuma block, il sistema antifurto in dotazione ai furgoni portavalori che ha avvolto le banconote in una resina resistente al taglio e dalle bruciature. Così i banditi sono stati di fatto costretti a fuggire. Non è escluso quindi che il comando sia fuggito senza alcun bottino o con davvero, dicono gli inquirenti, pochi spiccioli. L'assalto di ieri è stato messo a segno nello stesso luogo dove il 24 luglio scorso altri banditi cercarono di rapinare un furgone portavalori. In quella occasione i banditi bloccarono il atto di autostrada con mezzi pesanti e un escavatore, ma anche in quella circostanza il colpo fallì poiché il blindato, pochi minuti prima della partenza, decise di cambiare tragetto. Gli inquirenti non escludono che possa essere stato anche lo stesso comando a provare questo nuovo assalto.